I capitali di Sottomarina, un tema caro al Presidente del Consiglio, Beniamino Boscolo, che ne ha parlato più volte anche durante le precedenti amministrazioni. Ora, a riguardo, ci mette al corrente di una notizia positiva. Per il restauro delle tre edicole votive, lo scorso dicembre, l'amministrazione comunale ha presentato una proposta progettuale del valore di quasi 100.000 euro, al fine di ricevere un finanziamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il capitello dei Berti risulta anche pericolante. Quello dei Netti, seppur restaurato di recente, parliamo comunque di nove anni fa, registra infiltrazioni. Insomma, i tre capitelli versano in uno stato di degrado che li accomuna. Boscolo conclude affermando che si conta di inaugurare i tre capitelli completamente restaurati per il 2026, festeggiando così i 100 anni della loro costruzione. Ringrazia per l'impegno il dirigente Stefano Penso, l'assessore Angelo Mancin e gli uffici. Aragoste, Astici, Granseole, Granchiporri e tanto altro trovi alla CAM. Per il Gran Gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM, da oltre 50 anni all'isola Saloni a Chioggia.